Un giro tra gli operatori mercatali per fare il punto delle criticità e dei correttivi eventualmente da portare. Il candidato sindaco di centrodestra Fabio Romito assicura maggiore manutenzione, più pulizia, più sicurezza, insomma condizioni di lavoro migliori, spiegano dei box, e lo fa dal mercato cittadino di Corso Mazzini. Non il primo nel giro che il candidato ha già da tempo intrapreso tra gli operatori per dialogare e condividere una situazione che, spiega Romito, coinvolge tutti i mercati cittadini e su cui bisogna intervenire. È l'ennesimo giro che facciamo insieme alla città di Bari, non per la città di Bari, insieme alla città di Bari, nei mercati rionali, per le strade, lì dove ci sono i problemi che noi dobbiamo ascoltare. E per la verità anche i problemi di questo luogo, uno dei mercati più importanti e storici di Bari, li conosciamo molto bene perché gli operatori ce li raccontano da anni e l'amministrazione purtroppo fino ad ora ha continuato a non ascoltarli. Durante il giro sono diversi problemi che emergono, dai crateri presenti sul pavimento alla scarsa pulizia, dagli estintori scaduti a qualche criticità strutturale. Ora noi dobbiamo invece impegnarci per rimettere a posto le cose. Si parte da questo mercato, ma in realtà questo vale per tutti gli altri luoghi di Bari dove c'è bisogno dell'ascolto da parte della gente. Noi ci stiamo mettendo la faccia. Per la verità non ho visto grande affollamento di candidati sindaci per i mercati e per le piazze. Evidentemente perché dopo 20 anni non sanno cosa dire alla gente.